Buongiorno a tutti, Roberto Rinaldi di Yamaha Music Europe, presentiamo al Frankfurt Messe QL1 e QL5, la nuova serie di mixer digitali Yamaha, fratello minore della serie CL, dove la serie CL, CL1, CL3 e CL5 e gli Stagebox Rio sono inquadrati per il medio e grande evento live e grande installazione, la serie QL si sposa alla perfezione con le esigenze della piccola installazione e del piccolo evento live. Cosa condividono queste due macchine? Un touchscreen a colori da 10 pollici, doppio slot per schede di espansione Yamaha, parlo di conference perché entrambe le macchine hanno un board, una funzione, oggi integrabile solo su scheda esterna, quindi parlo della scheda Dendugan di Automix e dà la possibilità di automixare fino a 16 canali microfonici e quindi diventa un prodotto assolutamente interessante anche per l'installazione piccola nel settore conference. Preamplificatori on board, torniamo quindi a una macchina con la possibilità di lavorare stand alone e grazie alla funzione port to port, il QL1 e il QL5 sono riconosciuti dalla serie CL come degli Stagebox remoti, in questo senso vanno a integrarsi in maniera piuttosto brillante con delle reti Dante preesistenti. Ci sono altre piccole funzioni e migliorie che andremo poi a ritrovare nel nuovo firmware della serie CL, in particolare però le caratteristiche salienti, QL1 16 preamplificatori espandibili a 32, QL5 32 espandibili a 64. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!